Porta caricatore doppio in cordura 1000N surplus militare ex dotazione esercizio italiano, nuovo di magazzino, può contenere comodamente due caricatori M4, fibra regolabile in altezza per cui se il caricatore fosse più alto si potrebbe inserire ugualmente. Grip in materiale termoplastico, regolabile anche sulla gamba, doppio attacco, strisce grigie in materiale gommoso per aumentare il grip. Passanti a velcro, per cui la tasca si può utilizzare anche sfilando uno o due passanti cosciali, regolabile in altezza tramite velcro. Questo è il velcro di regolazione in altezza e questo è quello per agganciarlo al cinturone. Questo è un semplice fermo. Questa parte si può ripiegare e velcro in maniera tale che viene assicurato al cinturone. Adesso andrò a ripetere l'operazione con un cinturone per far capire bene dove va agganciato. Prendiamo il cinturone, lo sistemiamo, rigiriamo la parte col vecro e la rigiriamo ancora fino a bloccarlo. Ecco, operazione perfettamente riuscita, solidissimo, non sgancia, fuori autosbotanti, ottime cuciture, materiale semplice e essenziale, verde nato opaco.